Complimenti per la prestazione odierna su un campo difficile come questo dell'Arezzo. Come ti sei trovato oggi insieme con Corradini nel primo tempo, viste le assenze di Damiani e di Aloi, e poi nel secondo tempo con la crescita della squadra a Maranto, questa è l'altra domanda che spingeva forte. Come sei lo stesso trovato a fronteggiare questa specie di arrembaggio e quindi se sei soddisfatto della tua prestazione e di quella di tutta la squadra e del centrocampo, non so. Una serie di domande. Se sei soddisfatto in pochi parole. No, oggi era una partita difficile, ma penso che tutti abbiamo fatto bene. Sono iniziato molto bene due gol veloci, e poi abbiamo lottato fortissimo. Noi sappiamo che l'Arezzo è una squadra forte. È una partita difficile, ma sono tre punti molto importanti. Sì, sono contento. Anche io, lo so, è una partita difficile. l'Arezzo è una squadra forte. Non ho giocato 90 minuti solo mercoledì scorsa. Quindi era pesante, ma sono contento. Sì, all'inizio non gioco molto. Non voglio parlare del passato. Sì, sì. Il passato. Il passato, ma non sono un giocatore che molla. Io sempre lavoro forte e aspetto l'opportunità. Adesso io gioco, sono pronto. Penso che abbiamo una squadra forte. Tutti possono giocare. Sei contento della tua prestazione di oggi o pensi che puoi ancora avere margini di miglioramento? Sei contento della prestazione di oggi o pensi di avere ancora... Sì, ovviamente, tre punti molto importanti e molto bene. Quindi, ovviamente, sì. Ciao, Kiss. Ciao. Anche per vicissitudini dell'infortunio, purtroppo, del tuo compagno Damiani, adesso il tuo ruolo diventa anche importante per la squadra. Preferisci giocare nei due di centrocampo oppure magari... Ti trovi bene in questa posizione oppure anche un po' più avanti al ridosso di Cianci o della punta che gioca? Sì, posso giocare tutti e due. Nel primo tempo abbiamo giocato con due mediani. Nel secondo tempo, negli ultimi trenta minuti, ho giocato come un play. È uguale per me. Io gioco dove il mister ha bisogno di me. Un secondo solo, aspetta. L'ultimo è questo. In poche parole, stringiamo. Stasera la Ternana ha in testa la classifica, però bisogna aspettare il Pescara che gioca lunedì a altre squadre. Come gruppo siete convinti di poter vincere questo campionato o no? Secondo me sì. Abbiamo una squadra forte e siamo un gruppo molto... Unito? Unito. Sì, sì. Ma è ancora presto. Lo vediamo partita a partita e lo vediamo. Ho confidenza ma lo vediamo. Va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti.